Ma sui nuovi ospedali la giunta lenta è davvero una giunta totalmente ferma. Gli ultimi atti della programmazione sui nuovi ospedali risalgono alla giunta precedente nel mese di settembre del 2018. Poi c'è stato il governo della Lega che ha bloccato tutto. Voglio ricordare sul punto che sia Renzi che Gentiloni diedero in due tranche diverse con due leggi finanziarie 143 milioni di euro alla Regione Abruzzo per i cinque nuovi ospedali e da lì si è poi ripartiti ma sostanzialmente non si è fatto e non si è prodotto nulla. Il nuovo governo regionale da otto mesi non ha prodotto neanche una sola procedura, incartamento, delibera o atto di programmazione sui nuovi ospedali. Noi stiamo qui a chiedere cosa volete fare. I soldi sono stati trasferiti per cassa. Confermate la precedente programmazione della giunta di centro-sinistra o la volete cambiare? Non è che dopo otto mesi ci si può occupare solo di poltrone e rimborsi degli assessori.